Quando mi hai stato detto di partecipare a questo convegno, ci trovavamo nella situazione che ha eliminato perfettamente Patrizia rispetto alla normativa e alla percezione pubblica della problematica digitale didattica con un elemento in più che ha scorso parecchio l'ambiente degli operatori, parlo di tutti gli operatori scolastici, quindi dagli insegnanti agli autori di testo, agli editori e ai responsabili della conduzione pubblica e delle scelte pubbliche nell'ambito della pubblica distruzione, un problema in più che il diffondersi, l'esplosione del problema, grazie. L'esplosione del problema del modello che è la Rosi del Salve Fabricio di cui si parla molto in rete, che fa la sua comparsa anche nelle disposizioni ministeriali e che si presenta un po' come una mina vagante perché ripropone a livello didattico e scolastico tutte le problematiche tipiche che hanno agitato i sogni degli ideatori e di chi ha lavorato sui che gli operati, e voglia dire la libertà di accesso alle fonti della conoscenza.